Ben trovati da TG della mobilità, stanno arrivando nella capitale i giovani che parteciperanno domani al pellegrinaggio degli adolescenti in programma a San Pietro dalle 12 alle 19 e 30, nella capitale si attendono almeno 500 pullman e per loro sono previsti spazi di sosta vicino alle stazioni metodi Anagnina, Cinecittà e Subaugusta, da qui i pellegrini raggiungeranno poi la stazione Ottaviano-San Pietro. E domani giorno di Pasquetta, normale orario festivo per le reti di Atac e Roma TPL, le biglietterie Atac saranno aperte dalle 8 alle 20, ad eccezione di quelli di Anagnina che sarà aperta dalle 7 alle 19.